Seneca il classico studio di una funzione allo scientifico si svolta oggi la seconda prova scritta dell'esame di maturità Non è andata benissimo come mi aspettavo però dai si poteva andare veramente peggio Bagnazione riaperta in tutto il litorale fanese, sindaco seri firma l'ordinanza dopo l'ok da parte di Arpam A luglio si terrà un incontro pubblico dedicato alle informazioni online sulla bagneabilità delle acque Strade dissestate, scalinate pericolanti, piene di erbaccio e rifiuti nel quartiere di Gimarrafano I residenti chiedono al comune interventi urgenti e un parcheggio per la sosta delle auto L'assessore Brunori risponde l'area è stata acquisita e l'ultimo lotto avrà questa destinazione La Cura del Verde è invece a carico della società lottizzata Monopoli, il primo gioco in scatola della storia Arriva a Fano con un'edizione esclusiva e personalizzata Sarà un pezzo da collezione con piazze, vie e scorci più belli della città Passaggi Festival, stasera si inaugura l'undicesima edizione in piazza 20 Settembre E si consegna il premio giornalistico Andrea Barbato a Lucia Annunziata Tra gli ospiti anche Pietrangelo Buttafuoco, Elena Di Cioccio e Oscio Domani invece attesi Mario Giordano, Nando Dallachiesa, Gigliola Cinquetti e Francesco Sole Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia Dunque prosegue l'esame di maturità 2023 Oggi più di 13.000 studenti marchigiani sono tornati sui banchi per la seconda prova scritta Che ha riguardato le discipline caratterizzanti i singoli percorsi di studio Il servizio di apertura è di Marco Lonigro Archiviata la prima prova questa mattina alle ore 8.30 È stato aperto il plico telematico con all'interno le tracce della seconda prova Seneca all'Iceo Classico, studio di una funzione allo scientifico I maturandi hanno avuto a disposizione dalle 6 alle 8 ore di tempo Per svolgere il secondo scritto che vale 20 punti per il voto finale Oggi la seconda prova come è andata? Eh dai allora, mi aspettavo sicuramente molto peggio Non è andata benissimo come mi aspettavo Però dai, si poteva andare veramente peggio Diciamo che i problemi erano terribili I problemi erano terribili Diciamo che io ho puntato tutto sui quesiti Quindi dai, se ho fatto bene i quesiti E un po' benini i problemi Si punta una sufficienza, 10-12 punti Ma speravo meglio in realtà più che altro perché i problemi erano molto difficili, molto ostici Soprattutto quando li ho letti all'inizio non sapevo quale fare Infatti penso sia andata abbastanza male purtroppo Però si punta comunque ai 5-6 crediti su 20 Quindi è un po' male Io spero bene, mi sono fatta prendere un po' dall'ansia Era quello che avevamo studiato Perché la traccia, io faccio il liceo delle scienze umane Era una traccia sull'attivismo, la democrazia E spero sia andata bene Però non lo so, vedremo al giorno dell'orale quando mi daranno l'esito È andata abbastanza bene Comunque era molto fattibile Rispetto a comunque la prova di italiano era molto meglio secondo me Onestamente è stato abbastanza difficile Nel senso che era un argomento che avevamo fatto già a scuola Però argomentare comunque, fare collegamenti non è stato facile Soprattutto ai quesiti perché erano di più argomenti Cosa la trattava? Allora io ho fatto sulla globalizzazione Perché il mio corso è economico-sociale Cioè abbiamo fatto questo argomento Però ad esempio i quesiti chiedevano anche sul governo Oppure magari facevano anche collegamenti sullo Stato democratico Erano più argomenti differenti tra di loro Terminati gli scritti, ora all'orizzonte c'è l'esame orale Come ultima grande prova della maturità Come ti stai preparando per l'orale? Per l'orale? Io sto ripassando tutte le materie dall'inizio Mi sto focalizzando più che altro su scienze e fisica Senza sottovalutarle altro ovviamente Ma soprattutto scienze e fisica Perché diciamo sono le materie più difficili Sto studiando con i miei amici Ma anche da sola a casa tutto il giorno praticamente Però sono abbastanza pronta Mi sento abbastanza pronta Grazie, ora l'esame orale? Sì, manca solo quello Il 5 luglio Quindi a due settimane per prepararsi E poi finalmente si spera di uscire da qui Sto studiando in compagnia dei miei amici Studio da sola Comunque cerco di fare collegamenti Informarmi comunque sui giornali Guardando la tv Cerco più o meno di informarmi il più possibile Per arrivare lì e cercare di fare buon collegamenti Alla fine Approvato da parte del Consiglio di Amministrazione di Anas Il progetto relativo all'adeguamento Della Galleria della Guinza E al tratto fino a Mercatello Rispettivamente i lotti 2 e 3 Della E78 Fano Grosseto Un passaggio chiave per sbloccare i lavori Sulla incompiuta delle incompiute L'ok all'adeguamento della Guinza E il ritorno al progetto originario Del tratto marchigiano Ha commentato l'assessore all'infrastrutture Francesco Baldelli Sono belle notizie per chi vive e lavora In provincia di Pesero Urbino E attende da 40 anni Un'opera strategica per i collegamenti trasversali Est-Ovest delle Marche e del centro Italia Ora manca solo un ultimo passaggio Prima di passare alla gara L'ottemperanza alla via Da parte del Ministero dell'Ambiente E la firma del commissario ingegner Massimo Simonini Ora diamo ampio spazio alle vostre segnalazioni Dopo le numerose richieste di informazioni Sulla balneazione a Fanno L'assessore Cora Fattori Ha fatto chiarezza e annunciato Un incontro pubblico con la cittadinanza L'ha intervistata Filippo Pucci Assessore, nei giorni scorsi è stata riaperta La balneazione anche nei nostri tratti di spiaggia Qual è dunque la situazione nella nostra città? Ci avviciniamo al fine settimana e possiamo dire che dal giorno 21 di giugno È uscita l'ordinanza firmata dal sindaco Massimo Seri Che riapre la balneazione a tutto il litorale costiero del comune di Fanno È arrivata una lettera di ARPAM il giorno 20 giugno In cui si dà comunicazione che le analisi pervenute il 15 giugno Preliminarmente per le analisi microbiologiche Eseguite sui campioni di acqua e di balneazione Prelevati dal servizio territoriale di Pesaro In data 19 giugno 2023 Stabiliscono che le spiagge che erano state Temporaneamente chiuse alla balneazione Adesso possono essere riaperte Perché dette analisi sono risultate positive Per la balneazione Quindi diamo questa notizia a tutti i nostri cittadini residenti E per chi ci ascolta anche ai turisti Che possono venire e godere delle nostre spiagge Faremo un incontro i primi di luglio Assieme ai cittadini Aperto ai cittadini Aperto alle associazioni di categoria Per far conoscere meglio dove trovare tutte queste informazioni Da anni sul sito del comune di Fanno È possibile trovare le informazioni relative alla balneazione Che vengono aggiornate in base al continuo prelievo di analisi delle acque Quindi potete stare sereni e tranquilli Perché noi come comune di Fanno Analizziamo continuamente con l'aiuto di Arpam Le acque del nostro litorale Solitamente a seguito di un grosso evento meteorologico Alcuni tratti di costa che afferiscono i principali corsi d'acqua Come Erzilla e Metauro Vengono preclusi alla balneazione E quando entra in funzione lo scolmatore di Gimarra Per prassi e sicurezza viene preclusa anche un tratto relativo a Gimarra Ma vengono subito eseguite le analisi E come in questo caso tempo pochissimi giorni vengono riaperte Le analisi servono proprio a tutela della salute dei cittadini Quindi potrete trovare tutte le informazioni sul sito del comune di Fanno E vi avviseremo per i primi di luglio Quando ci sarà questo incontro pubblico Per farvi capire meglio dove trovare le informazioni e come E ci spostiamo a Gimarra Dove un residente ha chiesto interventi urgenti Per sistemare le strade dissestate Una scalinata pericolante Ma anche un parcheggio sterrato e il verde pubblico Ha raccolto il suo appello Stefania Bonomi Sono molteplici le richieste di intervento Da parte dei cittadini del quartiere Gimarra di Fano All'incrocio tra via Rizzoli e via Padalino I residenti segnalano il dissesto del manto della strada Dove evidenti buchi con nuove colate di cemento Formano dosse e crepe pericolose per il passaggio delle auto Mentre pochi metri prima sul senso unico di via Rizzoli Il comune ha consentito la sosta delle auto Proprio a ridosso della curva Dove spesso lo scuola busso o altri mezzi pesanti Non riescono a passare Quando sono stati fatti anche dei lavori Penso di allacciature Con il tempo la situazione è peggiorata Perché come potete vedere Lo stato della strada è proprio tutto dissestato È una situazione già segnalata più di una volta nel tempo Ma è ancora rimasto tutto quanto così E mi piacerebbe sapere con quale logica Quando vengono fatti gli interventi Vengono poi, come dire Si sistemano quelle parti restanti Che poi rimangono così E durante tutto questo tempo Rispetto a quando sono stati fatti questi interventi Poi la situazione è peggiorata In curva tra via Rizzoli e via Poggi Invece c'è un'altra problematica Che è relativo al parcheggio delle auto Io lì avevo chiesto all'ufficio mobilità Al comune di mettere anche questo pezzo Che c'è nei pressi della curva In divieto di sosta Perché ad esempio quando viene lo scuolabus Che passa qui per andare a prendere i bambini Fa fatica a fare manovra Lì aveva più senso secondo me Anche rendere quel tratto di strada In divieto di sosta Perché mettendoci le macchine nella curva Quando ci passa un mezzo pesante Fa fatica a fare manovra Problematiche senza fine In via Poggi la scalinata Che scende verso la statale Per l'accesso al mare dei residenti E dei villeggianti È in stato di totale degrado E a serio rischio di imminente crollo C'è lo scorrimano che è distrutto C'è il guardrail che è arrugginito Questo è importante Perché venga fatto un intervento Il prima possibile In quanto per i turisti Che vengono in vacanza d'estate In questa zona È un punto di incontro Per chi va appunto Lungo la spiaggia Lungo mare E questa scalinata Proprio è un collegamento importante Andrebbero fatti degli interventi Più presto Al più presto Perché è a serio Il rischio crollo A parte che è sporca Le erbacce Bottiglie rotte Come vedete queste erbacce Che crescono spontanee Lungo Lungo la scalinata E sono interventi Che andrebbero appunto Fatti al più presto Non ultimo Lo stesso parcheggio sterrato Di via Poggi Anche questo Estremamente dissestato Dove i residenti Potrebbero parcheggiare La propria auto Se solo venisse asfaltato Io ho chiesto Che quel parcheggio Venisse trasformato In un bel parcheggio Con tanto di strisce bianche In quanto qui Capita che lungo la via Molte persone Che abitano qui Non avendo comunque Il garage Non avendo il posto auto Avendo la possibilità Di parcheggiare l'auto Qui in questo parcheggio sterrato Si invogliano anche A parcheggiare qui Invece come potete ben vedere Il parcheggio è tutto pieno di buco È tutto sterrato Però quello che mi viene a dire Una cosa soltanto Noi paghiamo Un'amministrazione comunale Che anziché Intervenire In modo competente E serio Su queste problematiche La risposta Che mi è stata data Quando gli ho chiesto Di poter intervenire Mi hanno detto Che devono sapere Di chi è Il parcheggio Se è un parcheggio pubblico privato Non mi sembra una cosa normale Che un cittadino Paghi le tasse Per ricevere questi servizi Voglio dire Da parte di chi di dovere Da parte di persone Che nell'arco di questi mesi Ci sono anche aumentate Lo stipendio E non hanno Non si sono comportate Secondo me In modo serio In modo competente In modo professionale In più è mancata anche La volontà Di fare degli interventi Perché sono cose Damente plateali In cui bastava Secondo me Veramente poco E queste richieste Noi le abbiamo girate All'assessore Brunori Allora sentiamo la sua risposta Per quanto riguarda L'area di Via Poggi È un'area Che noi abbiamo acquisito All'interno Della lottizzazione Del Carmine Abbiamo acquisito Significa che comunque Quell'area Che oggi viene utilizzata Come parcheggio Domani diventerà Tutti gli effetti Parcheggio Perché la società L'ottizzante Lo deve realizzare All'interno Della convenzione Che scade Per il 2025 Quindi In una di quelle Che è l'ultime sezioni Quindi nell'otto tre Che è l'ultimo Di cui ancora Non c'è stata data Una scadenza Ma comunque È di prossima Realizzazione Invece Sulla gestione Dell'area verde È sempre la società Stessa Che la deve Deve essere Ottemperante Tanto che noi Li abbiamo Già sollecitati A quello che è La manutenzione Ma lo rifaremo Sicuramente Perché naturalmente Questo significa poi Anche un'igiene Del luogo Ma un'igiene Anche Che riguarda Altre famiglie Che vivono Nella prossimità Dopo il servizio Andato in onda Lo scorso Martedì Sulle segnalazioni Di alcuni residenti Di Caminate L'amministrazione Comunale di Fano È intervenuta In via Caminate Dopo il cimitero Per una frana Che si era verificata Durante le ultime Luvioni La strada Chiusa da più di un mese Aveva messo in difficoltà I residenti E gli agricoltori Locali Che utilizzano Questo tratto Con i mezzi agricoli Per raggiungere I vari terreni Con l'ausilio Di ruspe e uomini Questa mattina La frana È stata sistemata E la strada Dunque riaperta Sulle nuove termine Carignano Invece regna Ancora il silenzio Per questo L'Udc Fano Ha organizzato Per sabato 24 giugno Alle ore 10 Un sit-in Di fronte alle terme Dalla presentazione Del rendering Del progetto Avvenuto Il 25 ottobre 2022 Si legge In una nota Del partito Da parte Del Politecnico Di Milano E della società Romani Ad oggi Il silenzio È l'unica risposta Che abbiamo I cittadini Vogliono risposte A proseguito L'Udc Che vuole farsi Promotore Di questa richiesta E unirsi Alla città Per avere notizie Sul progetto Vi ricordo Che domani sera Alle ore 21 Nell'aula magna Sede della protezione Civile Il Codma Di Rosciano Siterà l'evento Dal titolo Estate Serena Consigli Per evitare Furti e truffe Dopo l'introduzione Ai lavori Da parte Del presidente Della fondazione Di comunità Fano Flaminia Cesano Alberto Di Martino E i saluti Dell'assessore al welfare Di comunità Dimitri Tinti E del presidente BCC Fano Romualdo Rondina Si entrerà nel vivo Del tema Con gli interventi Del dirigente Del commisariato Di polizia di Fano Stefano Seretti Che parlerà Di furti In abitazione E truffe Come prevenirli A seguire La relazione tecnica Di Maurizio Giommi Responsabile Del servizio Sistemi informativi BCC Fano Su igiene informatica Consigli Per una vita Digitale serena Cambiamo argomento Dalla mese di luglio Nel comune di Coglie Al Metauro Saranno rimossi Cassonetti stradali Per la raccolta Di carta Plastica E metallo Che saranno Ritirati a domicilio Il modello Sarà quello Applicato attualmente Nell'ex municipio Di Montemaggiora Metauro Con la differenza Che i bidoni Per la raccolta Del secco Saranno dotati Di un sistema Che andrà a misurare I conferimenti Al fine del passaggio In un prossimo futuro A un sistema Di tariffazione puntuale Nel frattempo Continuano gli incontri Per informare la cittadinanza I prossimi appuntamenti Si terranno Il 23 giugno Alle ore 21 Nel municipio Di Serungarina Il 26 giugno Alle 21 In piazza del Metauro A Calcinelli Il 27 Alle 18.30 Al Circolo Acri di Pozzuolo Il 28 giugno Alle ore 21 Nel centro civico Di Villanova Ma maggiore informazioni Potete trovarle Sul nostro sito Occhioallanotizia.it Passiamo a passaggi festival Ieri sera Cristiana Guerra Ha intervistato L'immunologa Antonella Viola Docente di patologia generale All'università di Padova Che al chiostro Delle Benedettine Ha presentato il suo libro La chiacchierata Credevole Leggera Anche se seria Antonella Viola Stasera a Fano Per presentare il suo libro La via dell'equilibrio Un libro che parla di noi Sì un libro che parla di tutti noi Perché parla dell'invecchiamento E invecchiare è una gran fortuna Naturalmente Perché se invecchiamo Possiamo ritenerci delle persone fortunate Però è anche un qualcosa Che va affrontato nel modo giusto Ed è un qualcosa che bisogna Diciamo un cambiamento Che bisogna fare Nel modo in cui viviamo la terza età Non solo per essere noi Liberi di vivere questa fase a pieno Quindi appunto Ballando Sollevando nipotini Insomma gustandoci la vita Ma anche diventa oggi Una scelta etica importante Per la sostenibilità Della nostra società E di tutto il pianeta Ma diciamo che non tutti Sono capaci di accettare Questo cambiamento Esatto Cioè molto spesso Lo si combatte Si pensa che L'invecchiamento Sia qualcosa di negativo Da combattere Solo che noi lo combattiamo Spesso Dei segni Dell'invecchiamento Che sono magari superflui Che sono innocui Per esempio i capelli bianchi Le rughe Ci preoccupiamo molto di questo E non ci preoccupiamo invece Dei cambiamenti importanti Cioè le ossa forti I muscoli Il cuore Il fegato I reni Ecco Il libro vuole In qualche modo Rimettere le cose al proprio posto Dare la giusta priorità Dobbiamo occuparci di più Della nostra salute Per fare in modo Di aggiungere vita Ai nostri anni Ecco bisogna modificare Lo stile di vita quindi Bisogna modificare Lo stile di vita Cercare uno stile di vita Che sia più Equilibrato E sostenibile Questo che cosa vuol dire Si parte naturalmente Da un'alimentazione Che deve cambiare Sia in termini di quantità Ma soprattutto In termini di qualità Ma poi c'è anche L'attività fisica Per affrontare al meglio Gli anni appunto Che ci aspettano Ecco ma sicuramente C'è anche un problema di sanità Perché più si invecchia Più il sistema sociale Sanitario È fondamentale Esatto Adesso l'invecchiamento Della popolazione In Italia L'Italia è poi un paese In cui l'età media Della popolazione È molto avanti Noi siamo un paese Molto longevo Con un'aspettativa di vita Di 84 anni Associato alla scarsa natalità Tutto questo Sta facendo invecchiare La nostra popolazione E la popolazione Che invecchia Ha bisogno Di una sanità diversa Rispetto a una popolazione giovane Per il futuro Già qualche libro in cantiere? Sì Uscirà a settembre-ottobre Un libro sul digiuno Intermittente Visto che Se ne è parlato tanto E tutti hanno pensato Che il libro La via dell'equilibrio Fosse un libro sul digiuno Non lo è Allora abbiamo deciso Di scriverlo Lo scrivo insieme a un collega Che si occupa di nutrizione E di sport E poi Verrà fuori qualcosa di molto bello L'anno prossimo Come mio saggio Feltrinelli Che di nuovo Ci toccherà tutti In prima persona Per venerdì invece Sono attesi Tanti altri ospiti A passaggi Tra cui Nando dalla Chiesa Sul palco con Gigliola Cinquetti Paolo Nori Elvira Dones Umberto Ciauri Anna Rita Briganti Mario Giordano E Matteo Bibianchi Nella terza giornata Dell'evento Ad ingresso gratuito Si inserisce La rassegna Piccoli assaggi Dedicata alla saggistica E poi L'inaugurazione Della mostra fotografica Come in una vertigine Realtà emessa in scena A cura di Associazione Centrale Fotografia Proseguono i laboratori E le letture Per i bambini Gli incontri del mattino E quelli dedicati Al benessere Il festival di graphic novel Gli aperitivi scientifici Organizzati Dall'Università di Camerino E le rassegne tematiche Su arte Tecnologie digitali Filosofia Scienza Ed economia Enrico Ottosi E Massimiliano Barbadoro Entrano a far parte Del consiglio direttivo Dell'ente carnevalesca I due nuovi componenti Nominati dal sindaco Massimo Seri Rappresentanza Del comune di Fano Socio di diritto Resteranno in carica Sinno alla scadenza Del mandato Dell'attuale consiglio direttivo Cioè il 18 ottobre 2026 Consiglio Ricordiamo che Preseduto da Maria Flora Gianmariori Torna anche quest'anno Alla Rocca Malatestiana Di Fano Il progetto estivo Rivolto ai ragazzi Dal titolo Torno entro le 6 Diversi gli appuntamenti Contest E tornei Tra musica Sport E divertimento Nella cornice della Rocca Malatestiana Di Fano Sono state presentate Le iniziative estive Del progetto Torno entro le 6 Nato dalla coprogettazione Dell'ambito territoriale Sociale 6 Con alcuni soggetti Del terzo settore Tra queste torna Il concorso musicale Ambito music contest Rivolto a giovani emergenti In programma Il 12 luglio Poi l'11 luglio L'appuntamento Dedicato ai DJ Con l'ambito DJ music Entrambi gli appuntamenti Si svolgeranno Alla Rocca Infine Novità di quest'anno La prima edizione Del torneo di calcio A5 Che si svolgerà Al Donorione di Fano Il 6 e 7 luglio Con torno entro le 6 Proposta nata Da una coprogettazione Con diversi soggetti Del terzo settore Capofila La cooperativa opera Poi coinvolge L'associazione Bobina Network L'istituto Donorione Con l'oratorio E altre associazioni Per sintetizzare Direi L'obiettivo È quello di Valorizzare Il talento L'estro La voglia di protagonismo Dei giovani Tra palco E realtà O meglio La possibilità Di salire sul palco Con l'ambito Music contest Che la Seconda edizione Quest'anno raddoppia Perché non è solo Per i gruppi musicali Ma anche per i DJ Ma poi c'è La possibilità Anche appunto Di scendere In un campetto Da calcio Per un torneo E quindi ecco E poi tante altre Iniziative Sono finalizzate A promuovere Anche il talento Il protagonismo Il coinvolgimento Dei ragazzi Degli adolescenti Per iscriversi Per iscriversi Ed avere informazioni Dove è possibile Rivolgersi Le informazioni Si possono trovare Sul sito Dell'ambito Ambitofano.it Ma poi anche La possibilità Di iscriversi E aderire A queste Iniziative Anche sul sito Di Bobina Network E poi anche Sulle pagine social Sia dell'ambito Che di Bobina Network Oppure anche Della cooperativa Opera Però ecco Ci sono davvero Tante occasioni Per i nostri Giovani I giovani Di tutto l'ambito Dei nove comuni Dell'ambito Per valorizzare La loro Diciamo Voglia di protagonismo E quindi anche Creare con loro Tante opportunità Di svago Di divertimento E di coinvolgimento Infine numerose Saranno le attività Al centro Gas Gas di Fano Dedicati a Preadolescenti E adolescenti 18 incontri Laboratoriali Dal 22 giugno Al 10 agosto Tutti i martedì E giovedì Dalle 17 Alle 20 Ogni iniziativa È buona Per promuovere Fano Le sue bellezze E i suoi monumenti Ma quella del Monopoli Dedicato alla città Della fortuna Sembra avere Tutte le chance Per conquistare Un grosso pubblico Massimo Foghetti Chi non ha giocato Almeno una volta A Monopoli Chi non ha acquistato Case e alberghi Questo mitico gioco Nato negli Stati Uniti Nel 1935 E poi diffusosi In tutto il mondo Tanto che Ora è presente In 114 nazioni E pubblicato In ben 47 lingue Ebbene Da oggi C'è un'edizione In più Monopoli Fano Un'edizione Tutta fanese Realizzata Da Spazio Connad Con riferimenti Tutti fanesi La scatola Riporta l'immagine Della città Della fortuna Le vie E le piazze Sono quelle di Fano E i giocatori Seguendo le classiche Regole del gioco Entrano nel vivo Della cultura cittadina Scoprendo i luoghi simboli Più suggestivi Dall'arco di Augusto La chiesa di San Francesco Alla zona del porto Ai quartieri Ai palazzi più tipici Ieri L'iniziativa È stata presentata Dall'amministrazione comunale È un bel modo per personalizzare Sicuramente la città È un bel omaggio Alla città Per evidenziarla Anche nelle sue bellezze Ma anche tutta In quella che è una rete Di solidarietà Perché quello che si apprestano A fare gli imprenditori Nel momento in cui Collaborano al progetto È proprio anche Di evidenziare Una bella rete Di città Che noi abbiamo Ed è fertile E crea non solo Un gioco E quindi divertimento Ma sicuramente Il modo migliore Per promuovere la città Nella sua bellezza È un modo Questo anche Per fare solidarietà Appunto perché Ricordiamo che una parte Del devoluto Verrà poi Affidato ad un'associazione Di riferimento Che in questo momento Dobbiamo individuare Assieme ai partner Ma sicuramente È un modo per avvicinare Anche tutto quello Che è il territorio È proprio un atto Per promuovere il territorio Per noi è fondamentale Stare nel territorio Fare promozione Al territorio Quindi non soltanto Alla città di Fano Ma anche le imprese Del territorio È la prima città Che viene fatta Nelle Marche Quindi credo Che per Fano Sia motivo di orgoglio Sia Ma è motivo di orgoglio Anche per noi E credo che sia motivo Di orgoglio Per tutto il territorio Questa collaborazione Con le aziende Con il comune Abbiamo E abbiamo studiato Questo Questo monopoli di Fano Ci sarà una giornata Particolare Per il lancio Del gioco Allora Il lancio Diciamo che Dopo oggi La presentazione Del progetto Da oggi pomeriggio Sarà già in vendita Nel nostro ipermercato Però venerdì C'è una Iniziativa In galleria Al Fano Center Con un monopoli Gigante Di 6 metri Per 6 Quindi chi è che vuole Può venire E può venire A provare Questo gioco A provare Rimaniamo a Fano Dove ha preso il via All'Inter Summer Camp La scuola di calcio Dedicata ai ragazzi Da 6 ai 14 anni Che desiderano Imparare O migliorare La propria capacità Calcistica E trascorrere Una settimana L'insegna Dell'apprendimento Dello sport Più amato al mondo È una scuola Per diventare Veri campioni O comunque Calciatori esperti Dedicata ai ragazzi Dai 6 ai 14 anni Presso il campo sportivo Montesi di Fano Dal 19 al 23 giugno Torna all'Inter Summer Camp Una settimana Interamente Dedicata al calcio Con istruttori Del settore giovanile Dell'Inter Che dalle 9 alle 17 Si dedicano Totalmente all'insegnamento Dello sport Più amato del mondo È già il terzo anno Che facciamo questo evento Qui a Sant'Orso E siamo molto contenti Perché anche quest'anno Abbiamo fatto 60 iscrizioni Prevalentemente I ragazzi vengono Da fuori Da fuori Fano Anche se ne abbiamo Alcuni qua E è ormai Una collaborazione Che con Inter Si è instaurata E per cui Diciamo che Attraverso i loro allenatori Che vengono Ci fanno la formazione E noi che ogni tanto Saliamo a Milano A vedere l'allenamento Stiamo crescendo Come qualità Di questa scuola calcio E di tutti i nostri allenatori Che lavorano qua Si basa anche su un concetto Di amicizia e di divertimento Tra questi ragazzini Sì fondamentalmente È un camp dove i ragazzi Fanno una bellissima esperienza Stanno qua insieme Dalla mattina Poi pranzano insieme E il pomeriggio Si allenano la mattina Un paio d'ore Un paio d'ore il pomeriggio Poi Credo che la cosa fondamentale È che fanno una settimana Di divertimento Nel corso del camp Ogni piccolo partecipante Riceverà insegnamenti tecnici Di altissima qualità Volti a migliorare Giorno dopo giorno Le capacità calcistiche Sceglierà il proprio ruolo Indipendentemente Dal livello di preparazione iniziale Con un programma specifico Anche per chi Vorrà diventare portiere I ragazzi che partecipano Qui al summer camp Arrivano già preparati Quindi hanno già una base Di partenza Noi cerchiamo poi In questa settimana Di andare a perfezionare Sui dettagli Più che altro Su quello che manca In modo tale che Quando vanno via Alla fine della settimana Riescono a portare a casa qualcosa Quindi questo è il nostro Obiettivo principale Del camp Il primo obiettivo Dove andiamo a lavorare È la conduzione della palla Quindi la capacità Di controllare il pallone In presenza dell'avversario Poi piano piano Iniziamo a lavorare Sui gesti tecnici I sette gesti tecnici Quindi lavoriamo sul passaggio Sulla ricezione Sul controllo Quindi su tutti i gesti tecnici Che abbiamo nel calcio Quindi noi andiamo a lavorare Sul dettaglio Sul particolare In modo tale che il bambino Andando via di qua Riesce a migliorare Sul gesto tecnico Dove aveva un po' più di difficoltà Arrivano già Con un loro ruolo Glielo affidate voi Per esempio Il portiere No allora Questa è una bella domanda Perché? Perché i ragazzi Loro bene o male Sanno già durante l'anno Il ruolo che vanno a fare Però noi cerchiamo Di farli lavorare Su più parti del campo Quindi cerchiamo di lavorare Sui diversi ruoli Non andiamo ad assegnare Un ruolo ben definito Il portiere è diverso Noi siamo arrivati Con l'inizio Con sei portieri Però abbiamo chiesto ai ragazzi Chi è che voleva Provare a fare il portiere Siamo arrivati a dodici portieri Perché molti hanno voluto provare Ed è giusto che sia così Perché poi il portiere È un ruolo particolare Deve cadere per terra Quindi non deve avere paura Dell'impatto Quindi anche questo È un insegnamento Per i ragazzi Però Non abbiamo un ruolo ben definito Non assegniamo ruoli Dove gli piace divertirsi Loro giocano Al termine della settimana I ragazzi torneranno a casa Con un attestato di partecipazione E un'emozionante esperienza Di condivisione sportiva Ma soprattutto Con il bellissimo ricordo Di una vacanza speciale E altamente formativa Tra poco Trasmetteremo uno speciale Dedicato all'evento Quell'ora la vita Di Avis Fano E poi La prima delle tre puntate Estive di In Salute Vedo lo studio pronto In attesa dell'ospite Fiammetta Pappalardo Consulente Per la carriera E per la crescita personale Ragazzi siete pronti? Sì Ciao Simona Siamo pronti Negli studi di Fano TV Quindi andremo in onda Dopo il TG Con una bellissima puntata Speciale Per quest'estate Cambiare abitudini Per il proprio benessere A tra pochissimo A tra poco Allora buona serata a voi E a tutti i nostri telespettatori Vi consiglio dunque Di rimanere sul canale 19 Di Fano TV Buona serata Buona serata a tutti i nostri telespettatori